Bene amici, indovinate dove siamo? Siamo in piazza de Spagna, Siviglia Ora vi mostrerò lo spettacolo di questa bellissima piazza Allora vediamo se riesco a girare, non riesco a girare, girano al telefono Eccoci, la maestosa piazza de Spagna, de Siviglia Eccola ai bambini, ai bambini piace, piace bambini questa piazza? Sì Ok, la mamma dove sarà? La mamma sarà a fare delle foto Come al solito sta facendo delle foto Vedete un po' che va la piazza Cosa lo sapevi? Che mi voleva la foto Chi ti fa la foto? La mamma La mamma, sì Saluta Ciao Il nostro canale YouTube Ciao Ciao Saluta il canale YouTube Ciao Alla prossima